Stamattina abbiamo avuto la prima seduta fotografica. Una decina di persone hanno accolto il nostro invito a posare per il Museo Viotti e questo ci ha fatto molto piacere. Un'idea questa di ritrarre il pubblico fra le opere che è venuta al nostro conservatore Walter Rosa e che chiaramente può contribuire nelle nostre intenzioni ad avvicinare la cittadinanza, gli amici del museo ancora di più alle nostre collezioni. Ovviamente è un materiale che poi utilizzeremo per la promozione quindi nel nostro sito, nei social, qualche occasione futura. Devo dire anche che il materiale che ho cominciato a vedere nelle foto che pur rapidamente però stiamo realizzando, mi sembra molto carino, molto simpatico. Quindi c'è un'ulteriore seduta sabato per chi vorrà approfittarne.